Rui, a dove... Ehi tu, sei giovane e hai gambe forti. Sei quello che cercavo. Poco fa è arrivato un piccione. Ho mandato Rui a prenderlo, ma è così inaffidabile. Starà facendo gli occhi dolci al maestro Darmi. Se la trovo. Lascia stare. Voglio la mia lettera. La trovi alla Torre Colombaglia. Ogni notizia può essere essenziale ormai. Va bene, ho capito. Vedrò che cosa posso fare. I piccioni sembrano spaventati. Cos'è successo? Brutto segnale. Da dove arriva quel carbone? Ah, ecco dove ti nascondevi. Sangue ovunque. Ma il corpo... La ringhiera si è rotta. Deve aver subito un colpo. Sangue. Ancora fresco. Che confusione. Socione... Cone. Ovunque. No. Cos'è successa. Dio. Cos'è successa? Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Non posso lasciarti qui. Pelia si occuperà di preparare il rito. Povera Ruia. Se solo avessi saputo come fare un balzo simile, in che guaio ti sei infilata. Bestie, convolti umani attaccano i deboli e gli sfortunati. Non possiamo restare impotenti di fronte agli sciacalli che ci minacciano. Per gli dèi. Ruia, che è successo? È stata buttata giù dalla torre dei piccioni. La lettera. Perché l'hanno uccisa? Quello è l'emblema che indossava il maestro d'armidimno. Perché lo aveva lei? Lo scoprirò molto presto. Oh, povera cara. Possa tu percorrere i campi dei giunchi. Numes, mio ceriano? Dimno. Devo parlarti di Ruia. Perché dovrei sapere dov'è quella bifolca? Forse perché ha il tuo emblema. Merda. Beh, era solo una cagna egiziana. Tutto qua. Perché lo hai fatto? In realtà, non volevo ucciderla. Solo dare una lezione alla sua insolenza. Si è rifiutata di leggermi una lettera. Tu devi dirlo a Pelia. Forse ti interessa fare la stessa fine di Ruia? Stupido egiziano. Ti insegnerò quel che ho insegnato a lei. Dai! Prova! 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 La lettera di cui parlava. Era Dimno. Sì, ha ucciso Ruya senza pensarci. Ed è morto perché anche di fronte a me ha pensato troppo poco. Quale assurda tragedia. Era una ragazza intelligente di gran cuore.